La donazione di 7 bici a favore dell'inclusività. A questo sapore il gesto di Lions Club Pesaro della Rovere, che con il contributo di Pesaro Bici ha ridato vita a 7 biciclette, che d'ora in avanti saranno a disposizione di Caritas e degli ospiti di Casa Tabanelli. Riusciamo a donare 7 biciclette, rimesse a nuovo e funzionali, affinché gli ospiti di questa casa possano, attraverso questo mezzo di trasporto, raggiungere posti di lavoro, ci auguriamo una comunità, degli amici, degli affetti, che li possano inserire all'interno della nostra città e che possano essere questo un mezzo attraverso il quale loro si inseriranno sempre di più attivamente all'interno della nostra comunità. Un progetto benefico per chi gode della struttura di Casa Tabanelli, la quale offre ai suoi 25 ospiti di media annuali un posto sicuro, con l'obiettivo di dirigerli verso un'inclusione sociale, facilitando dei percorsi di reinserimento. Quelle donate sono biciclette ritrovate negli ultimi anni dalle autorità comunali ed ora, grazie a Pesaro Bici e a questa sinergia, avranno una seconda vita. Le abbiamo risistemate in modo che siano più sicure e tranquille, sia con la componentistica che con le luci, in modo che come sicurezza è completa. È segno di una comunità che si muove assieme. tanti soggetti, le istituzioni, i Lions, Pesaro Bici e la Caritas, che mi sento di dire con tanta gioia, che è il recettore, ma è quello che poi fa in modo che queste bici possano servire a delle persone che crescano nella loro integrazione, nel loro inserimento, nel loro rimettersi in piedi, per avere una dignità per il proprio futuro e per poter sognare in grande. Questa è la bellezza di questa esperienza, di quest'oggi.